Ciao bambini, sapete l'altra volta che sono andata a scuola e che ho incontrato? Lui! Vi ricordate chi è? Camillo il coccodrillo! Ciao Camillo, come stai? Ahia, sempre questa cattiva abitudine di mangiarmi le orecchie! Io sto bene, tu? Ah, sta bene anche lui, ok! Cosa sei venuto a fare qui? A cantarci una canzone! Ma i bambini non sono più bambini medi, sono grandi adesso! Eh sì, a settembre andranno nell'aula azzurra, nell'aula dei bambini grandi! Ah, ho capito! Vuoi cantare un'altra canzone, non la tua, e quale? Quella del coccodrillo nano? Perché? Ah, perché vuole ricordarvi come si chiamano le dita di una mano! Va bene, dai, la cantiamo! Mettiti qua! Ma scusa, il coccodrillo nano dove l'hai lasciato? Ma, eccolo qua! Il coccodrillo nano, bambini, vi ricordate di lui? Cosa ci serve? Ci serve una mano, prendo la mia, mh? Quante dita ci sono in una mano? Contiamole! Uno, due, tre, quattro, cinque! Cinque dita! Siamo pronti per cantare? Ok! Cinque dita in piedi su una mano, prendono in giro il coccodrillo nano! Brutto puzzone! Non ci prenderai! Ma il coccodrillo nano in silenzio si avvicina, la testa tiene china e... Mangia il pollice! Quante dita sono rimaste sulla mia mano? Contiamole! Uno, due, tre, quattro, ok, allora, quattro dita in piedi su una mano prendono in giro il coccodrillo nano, brutto puzzone, non ci prenderai, ma il coccodrillo nano in silenzio si avvicina, la testa tiene china e mangia anche l'indice. Quante dita adesso sono rimaste sulla mano? Contiamo, uno, due, tre, tre dita, via, tre dita in piedi su una mano prendono in giro il coccodrillo nano, brutto puzzone, non ci prenderai, ma il coccodrillo nano in silenzio si avvicina, la testa tiene china, mangia anche il medio. Allora adesso quante dita sono rimaste? Due, uno e due, esatto, due dita in piedi su una mano prendono in giro il coccodrillo nano, brutto puzzone, non ci prenderai, ma il coccodrillo nano in silenzio si avvicina, la testa tiene china e mangia anche l'annulare. Quante dita adesso sono rimaste? Quante dita adesso sono rimaste? Una sola, il mignolino, pronti, un dito in piedi su una mano prende in giro il coccodrillo nano, brutto puzzone, non mi mangerai, ma il coccodrillo nano in silenzio si avvicina, la testa tiene china e mangia anche il povero mignolino. E adesso quante dita sono rimaste aperte? Neanche una. Nessun dito in piedi sulla mano prende in giro il coccodrillo nano. Il coccodrillo nano in fondo, buono è, le lascia tutte andare in cambio di un caffè. Ciao!